In collaborazione con Federazione Italiana Gioco Calcio Comitato Regionale Toscano. Grazie per la visione! Buonasera a tutti e benvenuti in diretta al Gioco è Fatto per parlare di calcio dal campionato di Serie D fino alla prima categoria. Avremo anche questa sera la parentesi con le pianticelle bianco-azzurre, la formazione Juniores nazionale del Prato che continua a pareggiare questa volta sul campo del Bastia. I campionati stanno veramente entrando nel vivo, stanno veramente indirizzandosi verso la volata finale, quindi aspetto le vostre considerazioni, le vostre domande, le vostre richieste di curiosità. Attraverso gli strumenti mettiamo a vostra disposizione per interagire con noi, gli sms oppure l'applicazione whatsapp, il numero lo ricordiamo ancora una volta è il 331-1888-676. Scatenatevi davvero, avremo anche la VAR del lunedì sera, anche questa sera abbiamo almeno 7-8 sicuramente episodi da vivisezionare, da analizzare con molta attenzione. Un momentaccio per gli arbitri, anche nel calcio dilettante. Cominciamo subito, come vedete il menù è ricchissimo, quindi saluto subito una bellissima Diletta Bitolzoli. Ciao Massi, buonasera e bentornati al Gioco è Fatto. Andiamo con gli ospiti. Iniziamo con il nostro amico Lorenzo Vitale. Ciao Diletta, buonasera a tutti. Il portiere dell'Antella, Elia D'Ambrosio. Buonasera a tutti. Direttore sportivo del Givi Borgo, Luca Pacitto. Buonasera a tutti. E l'attaccante dell'Acci Prato, Riccardo Moreo. Buonasera a tutti. Veramente un par de rois, questa sera parleremo di Serie D con Pacitto e Moreo, con questa sfida che ha rilanciato il Prato, Prato che ha spugnato il campo di un'altra capolista, gli ha fatto perdere la testa della classifica perché va a vincere sul campo del Givi Borgo imponendosi per 1-0. Una vittoria particolarmente importante. Poi il campionato d'eccellenza con D'Ambrosio con la sua Antella perché la lotta per non retrocedere è veramente incandescente, oltre che la lotta per la vittoria finale con Grassina e Poggi Bonsi che continuano a viaggiare a Braccetto. Il Grassina ha un vantaggio che non dà poco, ma ne parleremo, vedremo le immagini anche di questo entusiasmante campionato. Ma andiamo con ordine, riavvolgiamo il nastro. Io vi do i numeri, poi ce li dà anche la diletta attraverso la lettura dei risultati della classifica. Trovo i numeri del Prato. Nelle ultime sei partite il Prato ha ottenuto cinque vittorie e un pareggio. Adesso la zona playoff è soltanto a otto punti. Questo è un antipasto, questi risultati, letta, vai! Aquila-San Gimignano 0-1, Gavorrano che batte la San Giovannese 2-0, Givi-Borgo-Prato 0-1, Massese-Aglianese 1-3, Lapianese che batte il Bastia 3-0, Lo Scandicci che batte il Real Forte Querceta 2-0, 0-0 tra Seravezzo e Ponsacco, 1-1 Sinalunghese-Cannara, tutto cuoio-Sandonato 0-1 e 0-1 anche tra Viareggio e Trestina. In testa alla classifica la Pianese ha 54 punti, a 53 punti il Ponsacco e il Seravezza e a 52 il Givi-Borgo. Chiude invece la classifica il San Gimignano a 27, Sinalunghese 26, Massese 15. Allora, gli elementi di novità di questa giornata. La Pianese è la nuova capolista con 54 punti, Lo Scandicci è fuori dalla zona playoff. Queste le novità della giornata in un campionato che ancora veramente è all'insegna dell'equilibrio perché praticamente dal Gavorrano in su tutte possono ancora vincere il campionato. Ma veniamo al Prato con il nostro Lorenzo Vitale, una vittoria importantissima sul campo del Givi-Borgo per 1-0 grazie al gol del giovane Carli. Quello che però va evidenziato sono i numeri di questa squadra che sembra aver trovato la retta. Via! Io se ci fosse un titolo la chiamerei la vittoria del rimpianto, Massi, perché il Prato vincendo a Givi-Bizzano e come aveva vinto a Pian Castagnaro due settimane fa, tre settimane fa, dimostra di essere una delle squadre più forti di questo gelone se non la più forte. Lo dica nei numeri perché nel giro di ritorno sarebbe prima insieme al Gavorrano e alla Pianese con 23 punti però rimane un grande rammarico proprio nei numeri perché il Prato ha fatto 31 punti in casa 31 punti in casa, ne ha fatti solamente 11 fuori dalle motoramiche e questo ecco qui spiegato l'annata direi per ora non positiva del Prato perché 11 punti in trasferta sono numeri da retrocessione, l'ha fatto il San Gimignano e questo purtroppo il Prato deve cercare lì la motivazione di questo campionato anche se ha fatto una grande vittoria a Givi-Burgo. I numeri del nostro Lorenzo Vitale che hanno fotografato benissimo l'andamento del Prato forte in casa però ancora non aveva trovato la giusta dimensione in trasferta. Allora la prima domanda la facciamo a Riccardo Mareo, il super bomber del Prato perché questa differenza in casa da big, fuori casa da piccola, almeno fino alle ultime giornate perché Morea? Ma allora noi adesso siamo da 16 partite che abbiamo ingramato una grandissima marcia quindi indipendentemente dal casa o non casa noi giochiamo tutte le partite allo stesso modo il perché non te lo saprei dire, cioè a dire che abbiamo perso punti all'ultimo secondo come a Scandici e a Tressina però tutto sommato secondo me da 16 partite che... Avete cambiato marcia. Sì esatto, quindi questo. Luca Pacitto, il Prato va a vincere sul campo del Givi-Burgo, la favola bella del Givi-Burgo però ancora può proseguire perché voi ci credete ancora alla vittoria finale del campionato. Sì, noi siamo partiti Massimiliano per fare un campionato tranquillo, cioè col budget che abbiamo a disposizione c'è 52 punti, sono tantissimi no? E' chiaro, non avendo una società forte alle spalle come può essere Prato stesso e se volevamo vincere il campionato a dicembre si prendevano tre giocatori importanti e provavamo a vincere invece si è fatto in mercato, anzi cercando di vendere qualche giocatore nostro poi non ci siamo riusciti e quindi siamo abbastanza soddisfatti. Per quanto riguarda il Prato che poi l'ho visto io ieri, sinceramente è un'ottima squadra E' chiaro che anche noi abbiamo due ottimi mistri, Paiuca da una parte con noi e Di Pedrillo con il Prato tendono sempre a giocare palla e noi abbiamo trovato difficoltà anche noi in casa perché quando si gioca in casa nostra giochiamo su un campo che non è adeguato alle caratteristiche della squadra Il Prato fa molti più punti in casa giocando su un sintetico e può giocare meglio il calcio Anche perché tecnicamente il Prato sicuramente ha una delle squadre con il valore aggiunto più alto Allora andiamo a vedere cos'è successo, andiamo sul campo di Ghivizzano, rivediamo le emozioni di questo match Poi approfondiamo tutti questi temi perché i numeri di Lorenzo Vitale sono poi la chiave della stagione bianco-azzurra Questo è l'ingresso delle squadre in campo con il rientro di Quinto che tornava dopo il turno di squalifica È un primo tempo dove succede particolarmente poco, le squadre si affrontano nella zona nevragica del campo Il Prato si lascia preferire come sviluppo della manovra al cospetto di un Ghiviborgo abbastanza timido C'è un'opportunità per il Prato, il taglio dentro da parte di Tomi per Surraco Ed è bravo il portiere sottoriva a sventare la minaccia Quindi Prato subito pericoloso Qua c'è un'altra opportunità su un errore da parte della difesa del Ghiviborgo Qua è Fofanà che però non riuscirà a concludere con costrutto con la difesa della formazione lucchese che libera Poi attenzione a questa girata da parte di Frugoli e la parata a terra di Fontanelli Dall'altra parte Remorini che prova la giocata Ancora la difesa del Prato che libera senza grosse difficoltà Il primo tempo di fatto è tutto qua, succede poco, si lascia preferire il Prato In avvio di ripresa al 61esmo l'episodio che poteva cambiare il match C'è questo fallo di mano da parte di Quinto che quindi viene espulso Doppia munizione, espulsione per Quinto Il Prato poteva sicuramente risentire negativamente di questa situazione e invece continua ad attaccare Bazzofi ha questa opportunità e poi ecco il gol Lo segna il classe 2000 a Carli che di testa trova il pertugio vincente E mette la palla in fondo al sacco lasciato solo dalla difesa del Ghibi Borgo Dall'altra parte ancora Fofanala mette dentro per Bazzofi Arriva Marino che praticamente va a colpire in maniera fallosa Bazzofi Calcio di rigore, va Tomi, la battuta sotto Riva qua è bravissimo e riesce a deviare in angolo Finisce comunque 1-0 per il Prato che centra quindi questa vittoria particolarmente importante in trasferta Senza anche Riccardo Moreo fermato dal giudice sportivo per due turni e quindi insomma anche in una situazione d'attacco in emergenza Luca Facitto il Ghibi Borgo ha fatto poco 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 Sì ma guarda Massimilano ora chi era a vedere la partita magari Moreo lo può confermare Il primo tempo poi non è stato così brutto ecco era una squadra c'è anche il Prato che è stata molto tattica Molto frazzeggio ma poco costrutto in fase finale Sì sono stati molto tattica c'è il centrocampo si è giocato molto tra entrambe le squadre Però è stato un piacevole primo tempo non è stata una bruttissima partita E' chiaro che affrontare o il Prato che è in forma è difficilissimo per tutti Perché anche io ritengo che Prato attualmente sia la squadra migliore del campionato Noi siamo infatti preparati sul gol Non è dal mio punto di vista un giocatore di esperienze a tagliavacche Che non lasciano libero un uomo Ricordiamo anche l'onestà intellettuale che il Prato ha giocato in dieci uomini Sì sì ma infatti quello ci ha condizionato Perché guarda sul calcio d'angolo che scendeva quinto lo doveva marcare Nolè E allora sono saltate le marcature e si sono fatti trovare impreparati Però un giocatore di esperienza non può prendere un gol su un calcio piazzato Allora adesso con il nostro innocente regia ci fermiamo su questo episodio L'espulsione di quinto che vedete scivola Rivediamo un attimo innocenti cortesemente Seconda ammunizione Vedete però qua inciampa sul terreno sconnesso E qui va a colpire la palla con la mano Mi sembra che non ci siano dubbi sulla ammunizione Quindi doppia ammunizione e espulsione di quinto E poi visto che ci siamo vediamo anche la concessione del calcio di rigore Questo intanto è un'opportunità per Bazzoffi all'Ariento Dopo un lungo periodo di attività Questo è il gol di Carli E come diceva ovviamente Pacitto è lasciato solo E quindi qua c'è un errore da parte della difesa della Ghivizzano Proprio di posizionamento Insomma di ovviamente copertura sull'uomo che arriva da dietro E questo è l'intervento di Marino su Bazzoffia Che lo anticipa Finisce lungo e disteso Pacitto è calcio di rigore? Sì sì Non ci sono dubbi Non ci sono dubbi Quindi sullo sviluppo di questa azione Riccardo Moreo Cosa ti è piaciuto del Prato a Ghivizzano? A parte il risultato Vabbè è stata una grande vittoria Soprattutto perché siamo andati in inferiorità numerica E da quel momento in poi ci siamo più stretti come gruppo Abbiamo trovato quella voglia in più di vincere la partita E poi l'abbiamo portata a casa Una vittoria importantissima per il Prato Con il gol Lorenzo Vitale di Carli Questo 2000 che sta sicuramente giocando un gran campionato Sì l'ho detto anche l'altra volta È un giovane vecchio È un ragazzo sicuramente interessante Un 2001 dei più pronti che ho visto giocare in Serie D Cioè è uno di quelli che gioca e non si sente il fatto che ha una quota Quindi è molto importante Ma il Prato ha tutti i giovani bravi Luca Facitto ti propongo uno scambio Ortolini-Moreo lo fai? Insieme Insieme non è uno scambio No ma no Sai io con Ortolini ci sono molto legato A parte che lui è molto più giovane Moreo guarda questo è molto legato non lo fa Che giocatori sono? Quali sono le differenze sostanziali tra questi due super bomber del campionato? Potrebbero giocare anche benissimo insieme sinceramente Perché se giochi con due punte Ortolini ultimamente con Mr. Paiu Che attacca molto più la profondità Mentre prima giocavo molto più di sponda Nell'incontro E invece ora giochiamo un po' più in profondità con Ortolini Moreo è più giovane Penso che c'è una carriera merosa Perché penso che già E' stato bravo Paolo Toccafondi A individuarlo A individuarlo e a farlo rimanere a Prato Perché penso che aveva tantissime richieste di categoria superiore Fanno un po' a testare in aria però Gli Ortolini insieme un po' a testare fanno Eh vabbè questo poi sarà un problema del mister Però è vero Lorenzo Vitale ma insomma lo fareste per Toscando Ortolini-Moreo? Ma professionalità sì Senso offendere Ortolini È un ottimo giocatore però Ha qualcosa in più Dicci la verità Moreo ma nel mercato di riparazione di gennaio Hai veramente rischiato di lasciare Prato? Ma io con la società ho un buonissimo rapporto Sono contento di essere arrivato qua Anzi l'anno scorso già dovevo venire qua Infatti il direttore e il presidente li ringrazio per avermi portato quest'anno E dunque nulla Poi a gennaio sono voluto rimanere qua Chi ti ha cercato a gennaio? Tanto non ci sente nessuno No più che altro a dicembre mi aveva cercato un'altra Serie D Che puntava a vincere il campionato ma Vabbè Serie D per Serie D Prato Sì sì fa tutta la vita Allora a questo punto io direi di vedere una clip Perché l'ascolta settimana Moreo è stato al centro Di un vero e proprio elemento mediatico importante Insomma tutti parlavano di questa espulsione Eccola qua dopo il gol realizzato ai Viareggi Intanto il gol con i Viareggi è tanta roba Questo è un gol di giustezza dalla vittoria del Prato E' quello che conta Poi memori del fatto legato all'esultanza di Simeone in Champions League L'arbitro non ha gradito quello che è stato oggetto scomposto di Moreo E l'ha mandato antitempo sotto la doccia Ma veramente volevi emulare il ciolo Simeone Oppure siamo stati noi giornalisti a ricamare su questa situazione? No io non ho imitato nessuno Come ho ripetuto anche prima Purtroppo è stato uno sfogo della partita Con chi ce l'avevi Moreo? Dai dicelo Ma non ce l'avevo con nessuno C'è con il momento Però è stato provocato tutta la partita Quindi è stato un gesto che non rifarò più ovviamente Però rimane uno sfogo Niente di più Questo il Moreo è spulso Questo invece il Moreo che segna E segna a raffica Abbiamo una collection dei tuoi gol Hai veramente deliziato il pubblico bianco-azzurro Insomma a Prato abbiamo scoperto il vero Moreo Ti sei sbloccato Sì Sono sbloccato Arrivavo da due anni che comunque non segnavo E quindi è stata Cioè è un anno molto positivo per me Ti faccio una confidenza Moreo Quando qua a gioco è fatto è arrivato Riccardo Moreo Io ho letto il tuo curriculum E ovviamente non ho evidenziato i gol realizzati Perché non l'avevi fatto la scorsa stagione La nostra diretta ha ricevuto un paio di sms Cioè ma non avete detto che non ha segnato un gol Ecco adesso puoi veramente rispondere sul campo I gol li stai segnando E segnando a raffica Cosa ti ha cambiato nell'arrivo a Prato? No cioè ovviamente giocare sempre E avere la fiducia di tutto l'ambiente Mi ha aiutato molto Però sono arrivato qua con grande fama E grande voglia E poi il campo parla da solo La specialità della casa di Moreo è questo colpo di testa Sulla cross che arriva a Spiovente Ho visto che in un paio di circostanze sei stato letale Sì io attacco sempre il primo palo Poi conosco anche i miei compagni Quindi so che me la mettono sempre lì Io ci provo poi Riavvolgiamo il nastro di questa stagione bianco-azzurra Veramente come diceva Vitale Questa fragilità fuori casa è stata decisiva Per impedire al Prato di poter lottare per la vittoria finale Questo è un altro gran gol a San Donato Sì è vero sono d'accordo con quello che si è detto prima Perché fuori casa troviamo campi difficili Dove appunto non riusciamo a palleggiare come palleggiamo in casa Infatti ti volevo fare una domanda Se posso Perché voi cercate sempre di imporre il vostro gioco Sia in casa che in trasferta Io ho visto giocare sia in casa che in trasferta Non è che magari in trasferta Quindi quando le squadre avversarie sono in casa Prendono più coraggio e vengono a attaccarvi alti Sono più sfrontati Questa è una domanda che ti faccio E voi soffrite un po' questo atteggiamento? Ma noi soffriamo più che altro i campi Non tanto gli avversari Che noi pensiamo solo al nostro gioco Se riusciamo bene Se no poi comunque nonostante il campo non ci aiuti Noi andiamo avanti lo stesso Certo Avete fatto la tabella in queste ultime otto giornate di campionato Oppure continuate il live motive di De Petrillo Di domenica in domenica e poi vediamo No no pensiamo solo partita per partita Giusto Sì Ma l'obiettivo sono i playoff lo possiamo dire Sì 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 certo Ci crediamo Otto punti mancano nella zona playoff La nostra diletta con gli sms da casa Ne leggiamo un paio E poi proseguiamo questa interessante discussione Su un campionato davvero straordinario Entusiasmante Perché io non so E qui ci vorrebbe il nostro Andrea Labbate Quanti anni erano che sei squadre Ancora possono vincere il campionato Insomma A otto giornate dal termine Incredibile ma vero Diletta Buonasera Bisognava svegliarsi prima E le zone alte erano alla portata Otto punti in otto partite non sono pochi Da recuperare per centrare i playoff E vabbè questa è matematica È molto molto dura Più che altro sono gli altri Il Prato non dipende solo da se stessa Dipende anche dagli altri Quindi è questo l'elemento che deve far riflettere Il Prato le può anche vincere tutte Ma potrebbe non bastare Questo evidenziamo Una vittoria che conferma che questa squadra Poteva vincere il campionato ballando Vabbè ancora su questo insomma Diciamo il campionato È stato sicuramente interpretato bene La seconda parte Però in avvio ci sono state anche tante battute a vuoto Luca Pacitto Un uomo umile Capace in un mondo pieno di chiacchieroni Eh vabbè Luca Pacitto ha fatto un grandissimo lavoro Con il Givi Borgo Bravo 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 Perché insomma Questa è una squadra che A livello di budget Sicuramente è stata costruita Con un budget inferiore rispetto alle altre Contendenti per la vittoria finale Givi Borgo in Serie C Ci credi ancora o no? Non mi ha risposto Perché fa il pompiere Ma guarda Il mister ci crede come tutti i giocatori Come anch'io Perché è giusto che uno ci deve credere Perché se no È inutile andare a giocare la domenica Ci mancherebbe Quindi ancora si può fare Chi è la favorita a questo punto? Ma guarda Io dal mio punto di vista È sempre la Pianese e Ponsac Io sono venuto qui All'inizio campionato E ti dissi che Pianese e Ponsac E erano le squadre Che potevano vincere il campionato Ti non l'avevi presa sul serio E dici la Pianese Invece la Pianese è un'ottima squadra Perché conosco i giocatori che ci sono Sono diversi anni Che lavorano insieme Quindi dal mio punto di vista È un ottimo organico Riccardo Moreo Chi è il favorito per la vittoria finale? Anche se ci vorrebbe la sfera di cristallo Perché è difficilissimo Sì no, anche per me la Pianese Quella che gioca meglio Che scrive nel calcio migliore Però Lorenzo Vitale La Pianese è forte in casa Un po' come il Prato Però fuori casa Ha avuto delle battute d'arresto importanti Agliana e Prato Tanto per citare le ultime Sì, è una squadra Nel proprio campo Fa un po' il fortino È un campo difficile da giocare Perché è un campo veloce È un sintetico molto veloce Quello di Pian Castagnaio Però è una squadra tecnica È una squadra costruita bene Mi piace C'ha ragione Luca Per me ha detto a lavori come Luca È una squadra forse la meglio costruita E quindi insomma La Pianese che adesso ha un punto di vantaggio Che nell'economia di un campionato Dove veramente c'è grande equilibrio Può fare la differenza Diretta ancora un SMS Vai Il Prato nelle ultime due trasfette Ha vinto su entrambi i campi delle capoliste Significherà qualcosa? Questo è vero Il Prato ha vinto Sia sul campo della Pianese Sia sul campo del Ghibiborgo Ora per essere onesti A Pian Castagnaio Ha avuto un pizzico di fortuna Dai diciamolo Riccardo Moreno Anche se il Prato ha lasciato Invece punti importanti Ad Agliana e Ascandici Mi spieghi Come avete fatto A non fare bottino pieno In quelle due partite Tra l'altro Non avevo dei derby sentitissimi Mi è venuto il braccino È successo Vabbè a Agliana Diciamo che c'erano Anche tante quote In campo Mentre Scandici Purtroppo abbiamo preso Quel gol all'ultimo Che ci dispiace Vabbè ormai Diciamo l'abbiamo messo in archivio Diretta un altro Vai Sei risultati utili consecutivi Playoff alla portata Bene Se ce n'è un altro Leggiamolo E poi andiamo a vederlo Scandici Dai Una bella vittoria Che conferma Che questa squadra Ha qualcosa in più Nel campionato di Serie D Vabbè questo Questo si Riccardo Moreo Allora a questo punto Io direi di andare a vedere Lo Scandici Secondo te si salva Questo Scandici? Beh direi che è un buon gruppo Li ho visti molto affiatati Quindi Anche guardando le altre Secondo me Potrebbe salvarsi Lorenzo Vitale Pele contro pedo La Real Forte Querceta In uno scontro diretto Per la permanenza In categoria Questi non sono tre punti Sono sei punti Vittoria merifatissima Da quattro vittorie Tre pareggi L'avevo detto Un mesetto fa Che secondo me Lo Scandici si salvava Sono stati bravi Perché Non a caso Hanno messo dentro Un uomo di esperienza E secondo me Gli mancava come Mirko Garaffoni Che non ha fatto niente Ma Scandici è già Ha degli ingranaggi perfetti Però mancava un ingranaggio Perché il direttore sportivo Per me è un ingranaggio importante Avendo messo dentro Una persona competente Brava come Mirko L'orologio Inizia a girare Per cui Lo Scandici Secondo me Si salva Fatto davvero Molto molto bene Luca Pacitti A questo punto Laggiù in fondo Qual è la tua Previsione Perché è davvero Molto Molto delicata Anche quella situazione Da mio punto di vista Retrocedono diretti Sena Lunghese E Massese Viareggio Bastia E San Gimignano E fanno i playoff E bisogna vedere Poi la forbice Playout Playout Rivediamo un attimo La classifica Perceta Perceta Il mio punto di vista Dovebbe salvarsi Ecco Con i playout Senza playout Adesso però La situazione è questa È fotografata in questo senso Massese Ormai la diamo per andata A questo punto Si è riaperta Anche la lotta Per il secondo posto Tra la Sena Lunghese E San Gimignano Perché San Gimignano Ha fatto un recupero Davvero straordinario Lo vedremo poi più avanti Grazie a questo Veratti Che è un po' Il Moreo di San Gimignano Segna sempre Veratti Come segna sempre Moreo E quindi si riapre la lotta Per Diciamo Il penultimo posto Poi abbiamo Il rialforte Querceta E lo so che Luca Pacitto È uomo di Versilia E quando sente forte dei marmidi Si illuminano gli occhi Ma lì la situazione È delicata adesso Sì va bene Però comunque C'hanno dei giocatori Abbastanza importanti Per la categoria Difesa Guidi Visibelli A centrocampo Biagini Davanti c'hanno Falchini Vignali C'hanno anche a Scandicci Sì Allora andiamo a vedere Quello che è successo Rientrava Biagini Dalla squalifica Vediamo quello che è successo Perché il rialforte Querceta Visto a Scandicci Non ha assolutamente impressionato Gli highlights di questa gara Poi ovviamente leggiamo Anche gli altri sms Che stanno arrivando Copiosi come al solito Allora Partita che ha visto Subito partire Ha sprombattuto Questa formazione Dello Scandicci Guidata da Claudio Davitti Subito un'opportunità In avvio Per Bragadin Eccolo qua Bragadin Che ci prova Con la parata comoda Del portiere Puccini Dodicesimo Scandicci in vantaggio Con questa giocata Che porta al gol Da parte di Poli Il tiro non trattenuto Da Puccini E il gol di Poli Che porterà avanti La formazione dei Blues Rivediamo l'azione Con il gol Realizzato da Poli Al posto giusto Nel momento giusto Anche il campo di Scandicci Insomma Abbastanza irregolare Sconnesso Non aiuta Sicuramente Nello sviluppo Della manovra Questo è ancora Poli Che ci prova Adesso Lo vedremo Con questa battuta Dalla distanza Con la palla Che si alza Sopra la traversa All'undicesimo Poi ancora un'opportunità Per la formazione dei Blues Con Bragadin Che ci prova Puccini È bravo E para Primo tempo Che è tutto qua Con lo Scandicci Avanti Per 1-0 Eccoci nel corso Della ripresa C'è subito Un'opportunità Per Appunto Bragadin Che è uno contro uno Con Puccini Poi prova a servire Poli Ma non si chiude L'azione Per quanto riguarda La formazione Appunto Guidata Da Claudio Davitti Che come vedete Però è padrona Del campo Veramente Una formazione Impalpabile Quella della forza Querceta Il fallo Su Pecchioli Anzi su Ferretti Rivediamo questa opportunità La rivediamo un attimo Innocenti Cortesemente Chiediamo a D'Ambrogio Lo facciamo esordire Qua ciò che è fatto Con questa valutazione Su questo contatto In area Su Ferretti Calcio di rigore Sì Calcio di rigore No L'arbitro Non ha avuto Dubbi D'Ambrogio Ma le immagini Sono un po' chiare Purtroppo Però Mi sembra il contatto ci sia Anche il difensore Comunque Ora non ho capito bene Il difensore Si tocca la gamba Però evidentemente Un contatto c'è Bisogna capire Chi è che ha commesso Calcio di rigore Calcio di rigore Secondo gli altri ospiti In studio Moreno Ti sarei stato arrabbiato Se ti fischiamo un rigore così Eh così Nel difensore Sinceramente sì L'arbitro lo vedo però Molto deciso Poi quello che c'è Mi sembra Le proteste Della Da l'arbitro Sì sì È ben posizionato Già sul dischetto Quando gli fa Guarda Schello vede proprio Ce l'ha diritto Questo sì Questo è il momento È abbastanza Ben posizionato Non ha dubbi Allora Calcio di rigore Dal dischetto Trova Pecchioli Che va a realizzare Il 2 a 0 Però come avete visto Luca Facito Real Forte Querceta Che non è Il nostro inviato Che era Mattia Vignolino Non ha segnato le azioni Che proprio Lo Scandicci Ha fatto il disfatto Ed ha avuto altre opportunità Che non sono state finalizzate Insomma Una prestazione Sicuramente Di buon livello Eccolo qua Il Real Forte Querceta Che ci prova con Di Leo Palla alta sopra La traversa E poi un'altra opportunità Con la formazione Dello Scandicci Con Ferretti Vedete nelle praterie Della difesa Del Real Forte Querceta Poi il portiere Puccini Da intervenire E poi il calcio di punizione Di Biagini Che vedremo A chiudere La nostra sintesi Con la palla Che comunque Non inquadrerà La porta difesa Dalla portiere Dello Scandicci Quindi Una vittoria Netta Senza Nessun tipo Appunto Di dubbio Una vittoria Che certifica Quindi che lo Scandicci Oggi è fuori Dalla zona E play out E questa È una notizia davvero importante Diretti andiamo subito Con gli sms Uno Scandicci Dalle Carsi Baffi Forza Blues Ci picca Ci picca Davvero Un bello Scandicci Ma Lorenzo Vitale Qua adesso Doviene a mettere mano Al campo Perché sono Campo sconnesso In brutte condizioni Non possiamo vedere Un Turri così Ha giocato un dente Il presidente Tiene più al campo E Ci tiene tante al campo Ha sbagliato Ma che condizioni Ha sbagliato Ha sbagliato A fare intervento È un campo Non si può giocare In serie D In quel campo Anche perché vedete Scandicci È una grossa difficoltà Veramente Nello sviluppo Della manovra Sinceramente È sempre stato Un campo Di altissimo livello Ha fatto il carotaggio L'ha sbagliato Tra l'altro Arrabbiato Il presidente Ci tiene tanto Al campo E arrabbiato Non ha potuto Spetare il viareggio Insomma Gira un po' le scato Eh vabbè Hanno sbagliato Hanno sbagliato L'intervento Succede anche questo Però occorre Sicuramente intervenire Perché è un campo Che non è proponibile Per un torneo importante Per cui sarei di Diletta dimmi Davitti Anichito Brachi Il nuovo Contro il passato Brachi Tra l'altro Era talmente arrabbiato Che non ha voluto Neanche rilasciare Interviste A fine gara Insomma Brachi Che non ha trovato Il bando della matassa Adonesto Vitale No L'ho sentito Ha detto Che dovevano perdere 4-5-0 Quindi vittoria Meritata La squadra Non c'era Anche lui Era preoccupato Perché vengano Tutti a due punti In sé partite Quindi Ora sono In piena lotta Sono nella bagarre Completa Secondo me Sarà difficile Evitare i play out E' ottimista Luca Pacitti No no E' ottimista Sai Il Forte dei Marmi E' stato costruito Per fare un campionato Diverso Da quello che sta facendo E anche I giocatori stessi Che c'è in Rosa Chiaro che poi dopo Quando non trovi risultato Non è semplice Lì deve essere bravo Il mister A trovare La giusta direzione Perché se no Chiaramente Come ha detto Giustamente Lorenzo Fanno fatica A uscire dai play out E si E' tutto ancora Da decifrare Poi facciamo Un'analisi Anche sul calendario Diletta Un magnifico Scandicci Che non deve mollare mai E questo non deve mollare Perché la strada È ancora lunga Ecco Luca Pacitti Tu sicuramente Avrei fatto Tutte le tabelle Perché io lo so Che Pacitti È un attento E quindi insomma Ma gli incroci Tra l'alta classifica E la bassa classifica Oggi C'è il Ghibiborgo Meglio trovare Un Real Forte Querceta Oppure un Ponsacco Ma guarda Però le partite Se vedi lo stesso San Gimignano Che ha fatto Quattro risultati Utili consecutivi Che domenica È andata a vincere A Montevarchi Cioè ti fa capire Che il campionato È molto equilibrato Certo Quindi è difficilissimo Fare pronostici Dici oggi si vince Domani si perde È difficilissimo Rispondimi sinceramente Come sei Ma questa storia Che nessuno vuole andare In Serie C Perché le società Non sono strutturate È una falsa È una falsa È una falsa È una falsa Perché È una falsa Perché Tutti ci vogliono andare Tutti ci vogliono andare San Donato Prende Ghinassi Subito Il Ponsacco Vuole fare un colpo Di mercato Importantissimo Non è che sei un attaccante Che ha giocato anche in Serie A Quindi Nome e cognome Dicelo A questo punto Ci hai messo l'acquolina in bocca Che volevano prendere Orlando Bianchi Orlando Bianchi Che adesso fa il commentatore Televisivo Questo purtroppo È L'allenatore di pallone Che ha messo Questa cosa qui La gente può vincere Quando gioca il calcio Vogliamo vincere Ma anche perché Chi va da giocatore A dirgli Ragazzi oggi bisogna vincere Ma chi va I giocatori andranno Giorno Vogliamo vincere Allora è questo vero Riccardo Direi Direi No Perché sai Qua mi sembra Vedendo la classifica Ci sia È che è difficile Un campionato equilibrato Dove insomma Manca veramente la squadra Che può ammazzarlo Questo campionato Sentiamo Claudio Daviti Sta facendo un lavoro straordinario Era contentissimo Sentiamo l'analisi del tecnico Dei Blues Dello Scandicci Un'attaccante In una partita difficile Buona squadra Marco fa giocare molto bene Le sue squadre Forse il campo non l'ha aiutato Noi siamo stati in gara Per quello che sono le nostre caratteristiche Sapevamo che era una gara Dovevamo soffrire E alla fine l'abbiamo spuntata Ecco abbiamo sentito Daviti Sta facendo particolarmente bene Con il suo Scandicci A questo punto Prima di andare a vedere La formazione dell'Aglianese Che si rilancia C'è qualcosa di letta? C'è una domanda per Moreu All'attivo circa 60 presenze In Serie C E zero gol Come mai? Beh diciamo che non ho mai giocato Con continuità Però Ho anche Ho anche vissuto l'anno scorso Un'annata Molto pesante Perché giù ad Agrigento È stato veramente difficile fare calcio Anche allenarci Quindi Penso al presente Mi godo questi 19 gol E basta Poi ragazzi Vanno saputi aspettare Soprattutto le punte Non hanno età Questo indubbiamente E poi bisogna anche evidenziare una cosa Quando Moreu è arrivato L'abbiamo letto Noi Corrimo L'ho detto in precedenza E qua c'è qualche tifoso Che cattivello Ragazzi Non ha fatto 19 gol Vuol dire che quest'anno è esploso Quindi Ha trovato La giusta Collocazione Ma magari il nostro telespettatore Non aveva visto L'inizio dell'attività No magari Deva giustamente Riccardo ha risposto bene Giova un meno Antunità Quindi magari Sono 60 presenze Magari di 20 minuti Adesso Il grande punto interrogativo è Moreu Sarà devastante così Anche in Serie C Questo lo scopriremo Nelle prossime puntate Sicuramente Però in questo momento L'ha dimostrato Di segnare di testa E quindi di testa Quando si danno Quei movimenti Si segna in Serie D In prima categoria In Serie C In Serie B Perché è un movimento Che è un movimento straordinario Quello da attaccare il primo palo A trovare quei gol qua Che ci fa rivedere Il nostro Paolo Innocenti Il nostro Messi in regia Lui dalla regia Segna tanti gol E' uno di questi E' anche questo Però Sono movimenti Che non hanno categoria Ragazzi Quando si segna Si segna in tutte le categorie Io sono convinto di questo Luca Facitto Che dice E' vero E' vero Perché guarda Io prima facevo Il procuratore Avevo Biasci In procura A Livorno Si faceva fatica A sistemare in Serie C Andato in C E non giocava Ha giocato poco Prima alla Lucchese Poi alla Paganese Dissi Guarda vai in Serie D E vedrai che fare gol E tre ranci Andato prima a Ponsac Ha fatto bene Poi alla Massese Ora alla Cararese L'anno scorso Ha fatto Mi sembra 18 gol O 15 gol In Serie C Ora di nuovo Alla Cararese Sta facendo bene Capito Lorenzo Vitale E' pronto Moreo per la Serie C Per quello che ho visto Quest'anno Sicuramente Stavano Dei gelatori Del girone Più positivi Indubbiamente Meritano Di riprovare A giocare In Serie C Un altro giro Come di nuovo Sono gol importanti E' vero che In Serie C Sono le quote Quindi Però è anche vero Che difensori centrali Quote Ha fatto le gol importanti Non ce l'ha nessuno Lo sbaglio No ma lui è un ottimo attaccante Guarda poi E' ancora giovane Con classe 96 Quindi In Serie C Fa benissimo Questo è un movimento Importante Questo poi vedremo Il gol che ha fatto Con il San Donato Lo fai Se lo senti Il gol E poi Mi fanno arrabbiare Poi ha preso i tempi giusti Nell'area di rigore Capito Poi comunque C'ha anche un'ottima squadra Il Prato Che lo aiuta Ecco lo va Questo è un gol Che fa spazio Questo è un gol Che non ha categoria Dai ora Mi fermo con lo spot promozionale Per Moreo Però insomma Questo è un gol Che non ha categoria Dai Quindi insomma Molto probabilmente A Prato ha trovato Poi anche Giova per la squadra Insomma Giova anche bene Fa già bene la squadra Non ti si vince il campionato Complimenti per la tua stagione Bravo Ovvio Ha visto C'è qualcuno anche Che è un pochino più ottimista E secondo me Si vince 72-73 Come dicevamo prima E quindi non ci si arriva In Prato non ci arriva Matematicamente è impossibile Matematicamente Vabbè Questi sono numeri Che stiamo dicendo ora Però poi In campo Ci andiamo noi Quindi vedremo Dai Ciao Dile Una domanda a Vitale Pacito Che tra le squadre di testa Ha speso di più E come mai il Seravezza Venduto Rodriguez Le ha vinte quasi tutte Complimenti Anche al mister Malotti Un abbraccio Paolo Beh Risposta velocissima Pacito E poi Vitale Speso di più Lo faccio dire a Lorenzo Per quanto riguarda Il Seravezza Usa quanto spesso Spesso di chi mi volgo No lo so Però non mi sembra giusto dire Però per quanto riguarda Il Seravezza Hanno cambiato modo di giocare Perché prima Giocavano di ripartenza Ora invece Fanno un altro tipo di gioco Lorenzo Vitale Ho detto un'altra volta Con Pegolla Avevano cambiato modo di giocare Quindi stavo bravo All'allenatore del Seravezza Chi ha spesso di più? Non so Non posso fare conti in tasca Alle altre squadre Ci asteniamo Ci asteniamo Andiamo agli Olivetti di Massa A vedere come l'Aglianese Vince contro la Massese Una vittoria importantissima Per la formazione di Agostino Iacovelli Che passa su un terreno difficile Perché questa Massese è ultima Ma mica arrendevole Quindi è una vittoria Che vale sicuramente tanto Tra l'altro La Massese va anche in vantaggio Con il gol di Aldrovandi Poi ci sarà il pareggio Da parte dell'Aglianese Quello che mi piace Della Massese Che ha questi tifosi Che comunque Nonostante l'ultima posizione Continuano sempre a seguire la squadra Ecco l'Aglianese Che riesce a pervenire al pareggio Vediamo per questo fallo di mano C'è il calcio di rigore E dal dischetto Sarà Rosati Eccolo qua A mettere la palla in fondo al sacco Quindi il pareggio Della formazione dell'Aglianese Che veniva da una brutta sconfitta Quindi aveva necessità Assolutamente di portare a casa I tre punti E poi nel corso della ripresa La formazione di Iacobelli Riuscirà a portare avanti il risultato Questo è il gol di Di Vito Con questa conclusione Che non lascia scampo Al portiere della Massese E poi in contropiede Ci sarà anche il gol di Papi Eccolo qua Che va a realizzare Con questa conclusione Il gol del 3-1 Aspettando il rientro di Marzierli Mi sembra una vittoria Particolarmente importante Però Pacitto Questa è un'Aglianese Un po' a corrente alternata È un po' Una mina vagante Vediamo perché domenica E' un gol successivo Si gioca a noi Quindi se hanno vinto E' a massa Perderanno con noi Poteva fare di più Questa l'Aglianese? Sì Sai È un campionato difficile Massimiliano Molti addetti lavori Ritengono che Che sia un girone Facile Invece non è così Perché attaccanti Del campionato come Moreo Ortolini Brega Lo stesso Rodríguez Non ce l'hanno Tante categorie Tante squadre Quindi È molto equilibrato Veratti lo stesso Che è un ottimo giocatore Pensa anche La Massese C'è Ricci in porta Che ha più Ha giocato Due anni fa A Livorno in Serie B Quando era in retrocesso Quando l'Aglianese Stava senza squadra È andata la Massese Quindi Lo stesso in Brenda Viene dalla primavera Dell'Empoli Quindi è un campionato Molto equilibrato In Brenda Che tra l'altro Ha ritrovato Agostino Iacobelli Allenato appunto Negli allievi Della Fiorentina Quando c'era anche Zaniolo Tra l'altro Si sono salutati A fine gara In maniera molto calorosa Diletta Dimmi Poi andiamo a sentire Proprio Agostino Iacobelli La vittoria di Massa Consente di tirare Un respiro di sollievo È salvo Moreo Secondo te Quest'Aglianese O no? Se la deve giocare Fino alla fine Comunque credo Che sia Una buona squadra Perché anche giocandoci contro Vedevo che provavano Diverse soluzioni Quindi Una squadra che tiene un buon calcio Sono un po' a corrente alternata Diletta ancora dimmi Vai Poi andiamo a sentire Iacobelli Adesso ci sarà la sosta Sarà un bene per l'Aglianese? Eh Questo è un bel punto interrogativo È difficile dirlo Vitale È una squadra che vince Si ferma volentieri O no? Questo discorso anche per il Prato Secondo me Fa bene Una settimana di sosta Fa bene Anche perché hanno otto partite Non hanno un calendario facilissimo Devono trovare ancora Otto punti Sette, otto punti Quindi insomma Ecco Devono ancora sicuramente trovare Punti per la salvezza Diletta ancora Grazie per gli sms Sono tantissimi come al solito Vai Masi Ma a cosa servono i playoff in Serie D? Comunque sono ancora fiducioso Per vincere il campionato Giocano tutti per noi Allora Cosa servono i playoff in Serie D? Servono per poter acquisire Una miglior classifica In un discorso ipotetico Ripescaggio Quindi Vincere i playoff Sarebbe importante Ti metti in classifica Poi Come abbiamo detto Ormai Tutti i lunedì Lo ripetiamo ancora una volta Dipende da tanti fattori Uno Come sarà il format Del prossimo campionato Di Serie C Sarà 60 squadre E allora Per ovviamente Arrivare a colmare l'organico Ci saranno ripescaggi In alternanza Una retrocessa Una dal campionato Di Serie D Se il format Verrà dimagrito Ridotto 40 squadre Beh Allora Direi che Ci siano poche possibilità Per poter essere Ripescate Però La strada di playoff È l'unica Per poter Quanto meno Acquisire Il diritto Di poter sperare Se ci sono Dei posti libere In un ipotetico Ripescaggio Vedendo la Serie C Oggi Se si rimane a 60 squadre C'è una voragine Se invece Il format Come è probabile Viene ridotto Allora la situazione La situazione cambia Anche se A questo momento I regolamenti Non sono chiari E quindi I regolamenti Ancora devono essere fatti Quindi si sta parlando Esattamente Di possibilità Di probabilità Certo va rivisto qualcosa Perché vedere una Serie C Con due squadre escluse A metà campionato E situazioni Con tante società Che termineranno Il campionato Per onor di firma Insomma Mi sembra Che deve portare Una riflessione seria Visto che in federazione Stanno cominciando A andare in questa direzione Riflessione seria Format serio E poi chiaramente vedremo Le regole di ingaggio Però il Prato Ha l'obiettivo Di centrare Playoff Perché solo attraverso Diciamo L'arrivo Ai playoff Può Diciamo Entrare In un'ipotetica Classifica Di riprescalcio Detto questo Agostino Iacobelli La vittoria Di massa Sentiamo Veramente tre punti Che a noi ci fanno Non comodo Ma di più Quindi Bisogna arrivare A quella Fatidica Cifra Di 43-44 punti Che ci tiene Che secondo me Dovebbe essere Il numero esatto Per la salvezza E ha fatto i conti vitale A Iacobelli Che insomma Ha detto proprio Quei punti che mancano Per poterci entrare Appunto La salvezza Allora Adesso andiamoci a vedere I gol Degli altri In una giornata Pirotecnica Era la trentesma Della regular season Allacciamo le cinture Dai Partiamo Questo è Veratti Punizione con i contagiri E il San Gimignano Sbanca Il brindipede Di Montevarti Chiavorrano batte La San Giovannese Per 2 a 0 Il primo gol È di Bruni Il raddoppio Di Gomez Eccolo qua Con la completità Anche del portiere Della San Giovannese Salutiamo la capolista La pianese Di Marco Masi Che batte il Bastia Per il 3 a 0 Il primo gol È di Lorenzo Benedetti L'ex Bianca Azzurro Il raddoppio Sul calcio di rigore Con Buongiorno E poi Segna Ancora Lorenzo Benedetti Eccolo qua Il gol Del 3 a 0 Una super pianese Che vince E convince La capolista Va Tanto rumore Tanto rumore per nulla 0 a 0 Tra Ponsacco E Seravezza Scaramucce Ma forse è di Praticamente Inoperosi Scannara in vantaggio Assina Lunga Il primo gol Di Colarieti Poi al novantesmo Salva l'assina lunghese Chi? Tony Vasser Dal dischetto È infallibile Eccolo qua Finisce 1 a 1 Altro ascolto di vertice Con il Sandonato Che passa sul campo De tutto il cuoio Realizza Duccio Brenna Eccolo qua Il gol vincente E poi il Viareggio Che perde in casa Con il Trestina Staiano Dà la vittoria Alla formazione Umbra Io ho perso il conto A Viareggio Quanti allenatori Hanno cambiato Pacitto Che è delle zone Adesso ci aggiorna Però Biancalana Che avevamo visto A Prato È stato esonerato Nuovamente Ed è tornato a Iello A Iello Quindi insomma Si riparte da Iello Sette sconfitte Consecutive Adesso la situazione Si fa davvero Delicata Anche per il Viareggio A questo punto Andiamo a Vedere i gol belli Prima però Dei gol belli Voglio sentire Da Lorenzo Vitale Seravezza Ponsacco Tanto rumore Per nulla No mi sono divertito No Stava una partita fisica Una partita combattuta Sinceramente Non c'è stato Grande emozione Che segnano tante gol Sia Seravezza E Ponsacco Anche se stava una partita Nel complesso Bella Veloce Aggressiva Molto giocata Centro campo Però sinceramente Occasioni da gol Ce ne è stata Puoi Da tutte e due le parti Riccardo Marea Il gol di Brenna Che va A consentire a Sandonato Tavarnella Di vincere a tutto cuoio Un messaggio importante C'è anche il Sandonato Tavarnella Per la vittoria finale Sì Sono d'accordo No Sandonato ha una buona formazione Anche se contro noi Ha perso Però Se la può giocare Fino alla fine Tutto cuoio Luca Pacito Che in casa Ha perso grosse chance Di poter Mettere la quinta E volare verso La zona È una partita difficile Perché anche io Sono d'accordo Sandonato è un'ottima squadra Quindi 1-0 Ci sta E adesso andiamo a scegliere I golbelli della giornata Mamma mia Che impresa Con il nostro Francesco Ruggeri C'era poco 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 Feratti San Gimignano Tanta tanta roba Carli Di giustezza Colarieti Del Cannara Con questa conclusione Di prima intenzione Prima che arrivi L'SMS da casa Non c'era di meglio Ve lo dico subito Abbiamo rivisto Rivisto I gol Con il nostro Francesco Ruggeri Ma sinceramente Abbiamo messo Veratti perché se lo merita Da un gol bello Ma perché sta segnando A Raffi Che sta dimostrando Di essere un bomber Vero Carli perché ha dato La vittoria al Prato E poi Colarieti Che mi è sembrato Il meno peggio Il gol di Colarieti Del Cannara Rispetto a tutti gli altri Allora scegliamo Il gol bello Con Lorenzo Vitale Che scegliamo Veratti Veratti Dove l'hanno pescato Lorenzo Vitale Veratti Allora Io L'ho giocato Nel Pugifon 2-3 anni fa Poi è andato A giocare A Fezzanese Mi sembra Ma Emiliano Vero Dove era Ora quest'anno Dove era Quest'anno Era In sud Italia Era Il sud Comunque Era Comunque Già Con il direttore Sportivo Cianciolo Si Si Può Dire Ma A questo Punto Io Ragazzi Io ve lo dico È bello Fare la commissione Con Pacitto E Vitale Perché gli chiede Un giocatore E lo sanno Le sanno Tutte Ragazzi Chi ha preso Ma ci ha dato Anche il colpo L'Olando Bianchi Aveva già fatto Era un cambio A Pugifonsi Importante Quando Pugifonsi Arrivò il secondo Dietro il Siena Era un cambio Importante Lui Vorrei Ha visto Questi due Qua Sanno tutto Si muove Le sanno tutte Diletta Dimmi Mi guardi Dimmi Lorenzo Cosa ne pensi Di Veratti Erano praticamente Spacciati Da quando Ha iniziato A segnare Si sono rimessi In carreggiata Complimenti a San Gimignano Io gli avevo dato I pres spacciati Quindi Fanno bene Se mi mandano Dei messaggi Contro di me E' un giocatore Importante E' un giocatore Importante Hanno migliorato Le situazioni Sono sempre In situazioni drammatiche Secondo me Infatti Ti volevo dire quello Cioè Sicuramente Sono stati bravi A fare queste Vattorie Però Arrivare a salvarsi La vede ancora Lunga Anche se Veratti E' un giocatore Bravo Ecco Prima di andare Alle pianticelle Bianca Azur Si c'è altri semestri Leggiamo Vi dico che domenica prossima Il campionato di Serie D E' fermo Perché La rappresentativa Di Serie D Parteciperà Al torneo Di Viareggio Sono state le convocazioni Da parte del tecnico De Patre E c'è pochissimo Del girone E Luca Pacito Ferrante del Gavorrano Ferrante del Gavorrano Che è un 2001 De Rauro si è fatto male Però Si è infortunato Quindi adesso è sempre Tra Si è infortunato Non lo so Se si va E qua tra i convocati Comunque per quanto riguarda i portieri Non c'è nessuno del girone I suoi difensori Abbiamo appunto Ferrante del Gavorrano Che è un 2001 Evidentemente molto interessante Fernando Sempo A centro campo Abbiamo Petricci Dello sport In Trestina Che è un ragazzo Del 2001 Convocato Poi Non abbiamo Nessun altro Del girone Per quanto riguarda Gli attaccanti Non se ne parla Nemmeno Perché Non ci sono Altri giocatori Io voglio vedere se c'è uno più bravo Di Del giocatore del Pra Quasi Non è stato chiamato Sono curioso Vado a vederli Sono curioso di vedere Non sono stati chiamati Ma anche di Chiti Dell'Aianese Sembra strano che non l'hanno convocavo Queste sono le convocazioni Telefonato a De Patre Chiedete gli spiegazioni Noi ci sono chiamati Dell'Orfanello Un paio di squadre Si valutava Si La Carrarese Te l'ha chiamato Carrarese e Salernità Tra l'altro anche Chiti Penso vado a fare Con la Carrarese Chi Il torneo O Zellini O Zellini Uno dei due Zellini Uno dei due Comunque andrà Sicuramente al torneo di Vareggio Con la Carrarese Che ha la formazione Berretti E quindi c'è il grado Di inforzarla Io una volta mi sono alledato Mi sono alledato Perché non mi chiamava mai nessuno Perché una volta Ho preso il telefono Io ho detto Scusate ma i miei Non le convocate mai No Che poi dopo Si era venduto Quindi hai parlato con De Patre No Con Gentilini Un altro Ah vabbè non ce lo dite Segretario Vabbè Anche Sì no Forse anche E cosa ti ha detto Il mister Fa le convocazioni Ma come il mister Ho capito Però a volte Poi dopo Si era venduto anche Un giocatore in serie B Dopo si è venduto Dopo ho fatto anche le figure Non tanto belle Scusate Non vado neanche Anche Pacito voleva Dell'Orfanello Convocato No no C'è anche L'Orfanello Un giocatore forte Vabbè Queste sono le convocazioni Del nostro De Patre Prima delle pianticelle Se c'è qualcosa di letta Andiamo a leggere Poi pianticelle bianche azzurre Vai Tanti giovani interessanti Moreo Giampa Giocatori che in questa categoria Non sono di sicuro Di passaggio Sei d'accordo Vitale? Me l'auguro per loro Me l'auguro per loro Allora per quanto riguarda le punte Secondo me è più facile Ritornare in serie C Per quanto riguarda gli altri ruoli È un po' più difficile Anche perché Perché ci sono tante dinamiche Come San Luca Che valorizzazioni È anche su questo Perché le seconde squadre Però ci sono tanti giocatori Che si meriterebbero Di tornare in serie C In questa serie Le seconde squadre Stanno andando verso Termine Sono a fine corsa E quindi le valorizzazioni Torneranno ad essere Sicuramente qualcosa di importante Se saranno confermate Un po' in questa nuova logica Penso proprio di sì Di letto Ma il punto di penalizzazione Del Prato Non potrebbe compromettere Un eventuale ripescaggio? No, un punto di penalizzazione Non per illecito Un punto di penalizzazione Non per mancata Presentazione alla partita Quindi non credo Ci siano problemate Di questo tipo Poi mi sembra anche Che vanno riscritte le regole Signori Il Prato non è stato iscritto Il Taranto Il Taranto comunque Il Taranto sta facendo ricorso Perché ha preso un punto di penalità E non può fare domande di ripescaggio Questo lo so per certo Che ho parlato Di un direttore sportivo Dipende da fare il motivo Per il quale sapete Il punto di penalizzazione Mi sembra che mancati i pagamenti È un altro tema Qua c'è un punto di penalizzazione Perché non ti sei presentato Una partita Poi c'è un tema Abbastanza Però vanno scritte le regole Quindi insomma Finché non sono scritte Non siamo in grado Di dare giudizi Sul format Su quelli che staranno Anche gli adempimenti Da appunto portare avanti Per chiedere di ripescaggio Diletta Un po' cattivello Prato squadra mediocre Ora tutti sul carro Perché ha fatto qualche punto Fino a qualche mese fa Se ne parlava meno Vabbè Qua non c'è nessun carro Il Prato ha dimostrato Nella seconda parte del campionato Di fare un buonissimo andamento Come diceva Il nostro Lorenzo Vitale È capolista Se si guarda I punti fatti Se è anche irriviato Non è necessario Prato ha saputo Diciamo durante il campionato Trovare il giusto equilibrio Adesso è una squadra Sicuramente tra le più In forma del campionato Sei risultati Tutti riconseguti Qui cinque vittorie Nelle ultime sei partite Tanto di cappello al Prato Quando il Prato Prendeva le legnate a massa L'abbiamo criticato Giustamente Perché era da criticare Punto Anche lo stesso Moreva Non facciamo sconti a nessuno Poi Moreva Mi fa 19 gol Io salvai Nella partita di massa Fu l'unione di salvare Fu Moreva Mi fa 19 gol Io mi davo il cappello Tutta la vita Però se chiaramente Non fosse stato così Sarete stato oggetto Delle critiche nostre Come ovviamente Dei nostri telespettatori Moreo oggi È una delle punte Importanti Del campionato Sare di sei del Prato Sì Sono del Prato Quindi a fine anno Che succede? A fine anno All'articolo 108 Che mi svincolerà Ah quindi 108 Significa che Al 30 di giugno Cartellino di Moreo Torna Torna da Moreo E va a trattare E va a trattare Insomma Eventualmente L'ingaggio Con chi li tiene più opportuno Questo per farvi capire da casa Perché tu mi c'è 108 Che è Il numero di telefono No? È appunto La possibilità Al termine È un ragazzo Diciamo anche Un ragazzo che merita Non perché è qui Perché ha rescisso Un contratto Non so Ha rescisso il contratto Per venire a Prato Quindi non so Quanti lo farebbero Al suo posto È vero Che aveva fatto Un gioco È giusto È giusto Che adesso sta alla finestra Adesso io c'ho Con questo 108 Il procuratore Guarda Il procuratore Di Moreo 19-12 Se ne faceva 3 Era più dura Sicché è stato un ragazzo bravo È stato bravo Ragazzi Quindi insomma Sicuramente non gli mancheranno Le proposte Adesso rifarà un nuovo contratto E chissà Potrebbe anche rimanere Rimanere a Prato Serie D o Serie C Serie C Serie D a vincere O Serie C Punto interrogativo Spero Serie C Ma per la società In primis Perché se lo metto Ah no Io dicevo per Riccardo In Circo e Prato Sì In Circo e Prato Santa roba Questo Se lo auguriamo Vai Massimiliano Per il riferscaggio Ci vuole lo stadio Se vince Biffoni La vedo dura Vabbè Questo è un altro tema Ancora Ne riparleremo Se il Prato Insomma Acquisisce i diritti Per avere La possibilità Di arrivare a Serie C Sicuramente Verrà Verrà trovata una soluzione A auspico E spero Visto che a lungo presencio In questo momento Non c'è nessuna società Che lo sta utilizzando Poi Vogliamo fare un'altra Digressione Poi andiamo a vedere Le pianticelle Lorenzo Vitale Qua si fa un problema Di stadio Ma quando ci sono società Iscritte Con fiduzioni false Che non pagano Gli stipendi Ma che problemate Prato è un fiore all'occhiello Nel calcio italiano Perché in 40 anni Ne è ma fallita Io credo sia una Delle poche società In Toscana Di secondo Di secondo Di rispetto Ritroviamo la Serie C Poi sinceramente E vediamo come vengano scritti Regolamenti Perché non venghi iscritta Una squadra Che non ha la disponibilità Dello stadio E che venghi iscritta Una squadra Che invece è già Fallita Prima di cominciare Ma io qualche dubbio Ce l'ho Però le regole sono queste Noi ci atteniamo E andiamo avanti Diretta Moreo e resta Prato In Lega Pro Vabbè questo Ce l'auguriamo San Donato a Pari Spenti Ma occhio Ci sono anche loro Ma certo L'abbiamo detto C'è Malotti Che sicuramente Arriverà Arriverà sempre Che è uno Che non mola Fino alla fine Moreo Il prossimo anno In Serie C Con la Pistoiese Vabbè questo Il auguriamo Ovviamente a Moreo A livello professionale L'importante Che possa Che possa fare Bene In Serie C Adesso Andiamo a vedere Gli honoris nazionali Del Prato Le pianticelle bianco-azzurre Via Non sa vincere Questa squadra Credibile Si gioca A Bastia E il finale Di 2 a 2 Dopo che il Prato Gestirà benissimo La partita Nella prima parte Ci sono una serie Conclusioni Terremoto Da parte di Casati Poi anche Il Bastia Prova a rendersi Pericoloso Ma è davvero Il portiere Cecconi A respingere Su Del Prete Poi ancora Opportunità Questo è il Del Greco Attenzione al Del Greco Che grande giocata Di Del Greco Il 2002 Del Prato Gol straordinario Ci fermiamo Innocenti Regia Un attimo Cortesemente Torna un attimo Indietro Innocenti Guarda che giocata Ha fatto Questo ragazzo Un 2002 Del Greco Davvero straordinario Eccola qua La rivediamo Eccola qua Tac E la palla Che finisce in fondo al sacco 1 a 0 Per il Prato Il gol Di Del Greco Che tra l'altro Abbiamo anche premiato La notte delle stelle Tra le canticelle bianca azzurre Secondo tempo Con il Prato Avanti Per 1 a 0 Ancora Prato Che ci prova Questo è Damiano Terramoto Che non riesce Però a trovare La via della rete C'è la deviazione Del difensore Della formazione Del Bastia E poi del Greco Che tanto bene Aveva fatto prima Adesso qua Invece si prende un meno Per questo errore In fase conclusiva Ancora il Prato Con il portiere Del Bastia Che esce E con La battuta di Casati Che non riesce a trovare Il Tapin Vincente Poi ancora Il Prato Tamburo battente Vedete Il Bastia Si limita A difendersi Vediamo questa battuta Con la conclusione Che porterà Al raddoppio Ancora Di Terramoto E quindi 2 a 0 Per il Prato Sembra fatta E invece C'è la rimonta Clamorosa Del Bastia Qua ancora Terramoto Che impegna severamente Il portiere Avversario E adesso Arriva Il Bastia Che prima Trova Cecconi Sulla propria Strada Che riesce Ad essere decisivo Sul Raspa E poi c'è Questo intervento Che porterà All'espulsione Del giocatore Del Prato Dorsi Che verrà espulso E poi la punizione Di Del Prete Che porterà Il risultato Sul 2 a 1 E poi la parata Di Cecconi Sul Raspa E nel finale Vedete Beffardo Al 46esimo E Labonia A dare il risultato Di 2 a 2 Al Bastia Che riesce A portare a casa Una partita davvero incredibile Dopo che il Prato Ha fallito Tante Tante Occasioni Per vincere Insomma Davvero Tanta sfortuna Per i Juniores Nazionali Del Prato Ci dobbiamo fermare Obre pubblicitari Diretta ci sono altri sms Se ci sono però li leggiamo Dopo che ci siamo fermati Quindi spazio alla regia Poi c'è D'Ambrosio Che è pronto Perché ci dovrà raccontare Tutto del campionato Di eccellenza Dove non ci stiamo capendo Niente Né in cima Né in fondo Vediamo Pubblicità E poi torniamo Con eccellenza promozione E poi ci dobbiamo fermare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 C'è un mancino, ha morto Poggi Fonsi è morto, troppi punti da recuperare No Il campionato ancora non è finito Non si sa mai quello che può succedere Sulla carta mi sembra Lorenzo Vitale Però anche il calendario Non sono troppi punti da recuperare Non sono troppi Sono che in realtà Poggi Fonsi e Grassi erano Degli organici nettamente superiori Rispetto agli altri Entrambi hanno già fatto Con tutte le prime Con quelle riposte nelle varie punti Non vedo che il Grassi possa perdere punti importanti Perché ha già fatto contro la Fortis Contro la Colligiana Contro il Poggi Fonsi L'America sarà Prato con la Zenit E quello può essere un campo difficile Quello Baldaccio Bruna e il Derby Però la vedo difficile E possa perdere 6 punti Perché non sono 3, sono 6 3 più una partita di vantaggio Quello che ormai sembra difficile È il playoff Si faranno i playoff Perché insomma qua la forbice 9 10 punti Adesso siamo a 9 Però c'è anche poi la Fortis Juventus Che è l'unica che forse Veramente può ancora Aspirare proprio Il dicevo Lorenzo Vitale Va amplificato Troppo forti quelle due Addirittura si rischia di non fare i playoff Questo sarebbe Un caso più unico che raro Si faranno o non si faranno secondo te i playoff Secondo me sì Secondo te sì Sicuramente Però qualche turno salta Perché mi sembra La differenza sia abbastanza importante Divetta dimmi Appunto volevo leggere questo messaggio La vittoria del Poggi Fonsi Allontana la possibilità di disputa dei playoff Eh questo Oggi si farebbero con la Fortis Juventus Però insomma È a forte rischio E poi c'è una domanda Vai Vediamo Vitale Ma Vangi gioca? Gioca e non gioca Gabriele in questo momento non sta giocando Rientra a vuoto di fortuna Aveva un problema Una coscia Stava un mesetto fermo E quindi sta Anche ieri ha giocato 20 minuti E poi insomma Davanti I marabese Cicali Motti Insomma Non manca il liberato della scelta È al tecnico Biffinigle Il Grassina di Zepponi I prossimi in D Da giugno rinascerà Il settore giovanile E la scuola calcio Vabbè questo Ce l'auguriamo Insomma Chiaramente Una società che sta crescendo E che deve Trovare proprio La propria dimensione Poi eventualmente Nel campionato di Serie D Che è un'altra roba Diciamolo subito L'eccellenza È la Serie D È come mangiare E stare a vedere Come tra la Serie C E la Serie D Insomma Sono proprio mondi diversi C D E eccellenza D Cioè sono proprio Situazioni Infatti appartengono Ad altre federazioni Non accade Non accade Perché sono proprio diverse Bisogna essere strutturati Come società Perché tante società Mi cito una È Lanciotto Ci hanno lasciato le penne E ne possiamo trovare altro Mi viene in mente Il Lanciotto Perché è finalista di Coppa Di prima categoria Quindi gli facciamo complimenti Però insomma Il percorso della Serie D È stato un percorso Che poi ha lasciato Trascini importanti Quindi insomma Bisogna essere pronti Anche come società E quindi Il messaggio che ci arriva Da casa È importante Perché molto probabilmente La società Si sta strutturando A 360 gradi Adesso vediamo L'Astrigiana Che va a vincere Sul campo della Rignanese Calcio di rigore Da parte di Mazzoni Poi Cioce Il pareggio della Rignanese E gli Aquinandi Eccolo qua Sul calcio di rigore Doppio rigore Doppia vittoria Per la formazione L'Astrigiana Che torna quindi A prendere i tre punti E quindi Questo è molto molto importante Ringraziamo Fabio Vanzi Per le immagini Appunto Di questa partita Diletta Dimmi L'Astrigiana Non era morta Eh no Assolutamente La vittoria Sul campo della Rignanese Va in questa direzione E adesso Arriviamo Alla partita Che ha rilanciato In maniera incredibile Il Lantella Che va a vincere A Scigna Per 1 a 0 D'Ambrosio Avete vinto perché? Non mi dire Perché abbiamo fatto Un gol più degli altri Perché non te la faccio Vai Perché abbiamo difeso bene Sì Conto una squadra Che A questo punto Avete invischiato Ben bene Perché Scigna Entra di fatto In zona calda C'era Gigià Però adesso È proprio ufficiale Eh appunto Sono tante le squadre In zona calda Quindi Non è Basta poco Per Per entrare E uscire Dalla zona play out Vittoria meritata? Sì Sì dai Vediamo gli highlights E poi ti rifò la domanda Alla fine Vediamo Quello che è successo Allo stadio del Bisenzio Di Signia Con questo match Particolarmente Atteso Intenso Si gioca Una bella giornata Di sole Allo stadio del Bisenzio Buona anche la cornice Di pubblico Si comincia subito Il dodicesimo D'Ambrosio Eccolo qua Veniva il gioco e fatto E ha fatto il paratone Eccolo qua La parata Sulla conclusione Di Rosi Più scena O più sostanza D'Ambrosio In questa parata Più scena Più scena Eccolo qua Però anche sostanza E ancora il Signia Che ci prova Con questa battuta E ancora D'Ambrosio Con Coppola Che carica il tiro E D'Ambrosio Che c'è Signia che Comincia bene Perché ci avrà Un'opportunità Anche con Ficarra Adesso lo vediamo La palla esce Veramente Di poco Ancora La formazione Del Signia Con il cross Di Gambini E nessun compagno Pronto a sfruttare Il suggerimento Poi la partita Cambia La partita cambia Perché c'è Questo lancio E c'è Appunto Ammannati Che va a stendere Il giocatore Dell'antila lanciato A rete Per l'arbitro Ci sono gli estremi Per il calcio di punizione E per l'espulsione Del giocatore Appunto Del Signia Ammannati Rivediamo Quest'episodio Intanto un'analisi Di D'Ambrosio Era da espellere Eccolo qua Ma importa Quindi ci può stare Giusta? Che dici Vitale? Niente da dire A livello di rigolamento Perché Moreo è d'accordo Andava Andava espulso E poi arriviamo Al 48esmo Quando l'antella Riesce a realizzare Con Tacconi Che al termine Di una mischia Scatuita da un calcio Di punizione Di Castiglione Mette dentro Il gol Dell'1 a 0 Al 48esmo Il gol Di Tacconi Un gol Particolarmente Importante Eccolo qua Bravo a trovare Il punto giusto Nel momento giusto Sotto di un uomo Sotto di un gol Mamma mia Che tragedia Per il signa Di pronunziati Dall'allenatore Cristiani Nella ripresa Poi la formazione Dell'antella Avrà ancora Un'opportunità Con la conclusione Da parte di Olivieri La parata Da parte di Cappelli Poi ci sarà Ficarra Invece che avrà Un'opportunità Per quanto riguarda Il signa Lo vedremo Tra qualche attimo Insomma Una partita Nella quale Poi La prima parte Era sicuramente Per dominanza Del signa Questa è un'opportunità Per Ficarra La vediamo La palla Che esce Al lato E poi ci sarà Un'ultra opportunità Per la formazione Dell'antella Con cappelli Che viene in avanti Avete rischiato Insomma Di segnare Sull'uscita Del portiere del signa Ma ormai Eravamo a tempo scaduto Possiamo dire D'Ambrosio Una prima mezz'ora Per il signa E poi è venuta fuori L'antella Però l'espulsione Di ammannate Ha fatto la differenza Ah quello sicuramente Sì Noi Ci mettiamo sempre Un pochino In granare Quindi il nostro inizio Di gare È sempre un po' Un po' lento Noi poi siamo stati Pericolosi In realtà Poche volte Però non abbiamo più Rischiato niente E questa è un po' La capacità Delle squadre lavari Che sono Sono una squadra basca Io per l'appunto L'ho vista il mercoledì scorso Era l'astriciana Quando avevi giocato Il mercoledì Sì Sono una squadra Rognosa Cattiva Basca Bella Mi piace Complimenti Sì sì Non si danno mai Da categoria Diretta dimmi Grazie Un saluto al più forte portiere In circolazione Nei dilettanti Da Giamme e Vale E poi D'Ambrosio si merita La serie D Se non la C Vitale Portalo a Scandiccio E' un saluto a Scandiccio Quindi mi chiede la Garaffoni Più che a Vitale Di andare a Scandicci Tra l'altro Ci racconti in 30 secondi La tua esperienza americana Che è stata anche in America D'Ambrosio La mia esperienza americana Calcisticamente è stata un po' Scarsa Ecco in realtà Sono andato a fare una categoria Dilettantistica Insomma un sogno americano è rimasto nel cassetto Sì sì C'è sempre È sempre vivo Però bisogna trovare un attimino i modi Ma tu volevi fare l'attore Perché non sbaglio Qualcosa del genere Però c'è che fai Mi fai l'attore al diritto Questo è Sì no me lo ricordo Perché Fai che lo faccio a teatro Cosa fai Canto O al momento canto Poi alla fine Semmai ci intoni qualcosa A Milofoni spenti Ti dicevo La prima squadra Gliel'ho trovata io Perché lui era un giocatore del Fiesole Sì che lui giocava già da 5 o 6 anni In categoria Certo Era un portiere bravo A Calenzano Era promozione o eccellente? Eccellenza In eccellenza Calenzano Conosce tutti Conosce tutti Vitalia Allora vediamo Lo è pazzato io Era ammigiatore Vediamo chi ha scelto il nostro Lorenzo Agostini Come migliori in campo di questa gara Poi diletta con gli sms Sarei giovani bravi Sarei giovani bravi Migliori in campo E Capochiani del Signa Giornatore che fa la differenza Davvero una prestazione Molto positiva E a questo punto Vediamo un po' di immagini Di repertorio Mentre una volta diletta Ci legge l'sms Vediamo anche i risultati degli altri Buonasera Potete chiedere a Elia D'Ambrosio Detto il conte Come riesce ad allenarsi nel fango E uscire sempre pulito? Eh questo fai Sì ti vedo molto preciso E poi i portieri Poi nel fango Insomma Come fai? Ma infatti un nesco Mi ha pulito Vediamo un immagini di repertorio La nostra clip Nel andare a vedere Che la Fortis Civentus batte la Val d'Arno Per 2 a 1 Con la doppietta di Guidotti E' tornato a Guidotti E quindi la Fortis Torna a vincere Sarà un caso Ma i bomber In tutte le categorie Moreo Sono sempre gli stessi Per quanto riguarda poi Invece un altro risultato Importante Quello appunto Della Castiglionese Che batte Appunto La Zenit Per 2 a 0 Una brutta sconfitta Per la formazione Della Zenit Audax 2 a 0 Sul campo della Castiglionese Castro E Nocentini Rientriamo Vediamo invece Il pareggio Tra la Bucinese E la Baldaccio Bruni Immagini Appunto Dell'ultimo turno Di campionato 0 a 0 Un punto Che serve a poco A entrambe I contendenti Diletta Zenit Audax Vorrei fare complimenti A questa squadra Che nonostante Tutti gli infortuni Continui campi Di formazione E tutto Sembra rimane contro Sta lottando Per il playoff Vabbè Lo è ancora In corsa Però la sconfitta Sul campo della Castiglionese E' una brutta sconfitta Poi c'è una domanda Dispiace per la Zenit Pensavo lottassi Almeno per il terzo posto Cosa manca? E cosa manca? Infatti Stavo dicendo Io secondo me La Zenit E senza Fare polemia Però mi sembra Una delle delusioni Di quest'anno Di questa eccellenza Io credevo Facesse molto di più Sicuramente è stata Facciata dagli infortuni E ha avuto qualche problema Però era una squadra A partita Con ben altra ambizione Massi Indubbiamente Sicuramente La sconfitta Partita sul campo L'ultimo della classe Certifica Quello sta dicendo Il nostro Lorenzo Vitale Analisi anche di Luca Pacitto Che segue da vicino Anche la Zenit E poi E' anche E' una società gloriosa Comunque Fanno un ottimo settore Giovanile Quindi E' chiaro Anche io mi aspettavo Qualcosa in più Dalla Zenit Tanti infortuni Ma anche forse Una squadra Costruita Senza Diciamo Quell'obiettivo Di poter puntare Al terzo posto Perché insomma Davanti Silvarese Silvarese Manganiello Zizzari In eccellenza Io l'avevo dato A un outsider All'inizio del campionato L'ho detto In queste televisioni Quindi Secondo me E' una delusione Quello hanno fatto Lo Zenit Ha fatto molto di più L'anno scorso Secondo me Con una squadra inferiore Questa è una valutazione Su un dato di classifica Che comunque Potrebbe ancora dare I pregi Sempre Che si faccia Poi domenica C'è la possibilità Di riscattarsi Alla grande Perché arriva il grassi E' una partita importante Rignanese Undicesimo rigore contro I giovani arbitri Si fanno influenzare Dai giocatori più anziani Vabbè Qua abbiamo l'immagine Sulla della realizzazione Abbiamo l'immagine Dei falli Che li hanno originati Quindi Come è il nostro Prassi Se non abbiamo l'immagine Ci asteniamo Dai commenti Dopo la sconfitta di ieri Il Signo adesso E' veramente nei guai Speriamo bene Anche se è dura Questo lo dice la classifica Non importa Essere Diciamo Troppo Cronaca Ci sono stati Due gravi falli Con relativi Gravi infortuni Per due giocatori Del Signo Questo Non sono stati Menzionati Nella nostra cronaca Uno Si c'è stato un fallo Ma penso Non so se si è fatto male Da solo in realtà Non so Ero lontano Non so se lo so dire Nostro Lorenzo Agostini Non ce li ha segnalati Ma insomma Facciamo gli auguri Pronta guarigione Due ragazzi Del Signo che si sono Infortunati Però non abbiamo Eventualmente Insomma Nota di questa Di questa situazione Ci dispiace Se ci sono Ovviamente degli infortuni A questo punto Io direi di andare Al campionato di promozione Vediamo risultate Classifica Anche di questo Campionato 23esma giornata Del regolo al season Vai Gialli Lampo 1-2 L'Arcianese Quarrata 0-1 Luco Maliseti 1-2 1-1 Tra Montespertole Villa Basilica Pietrasanta Che batte il Calenzano 1-0 Sestese Che batte il Lammari 3-1 Tempio Pontremolese 0-2 E 1-1 Tra Viaccia E Villa Real Ceretese In testa La classifica La Pontremolese 54 punti Lampo 50 Sestese 42 Chiude invece La classifica Lammari E Pietrasanta A 19 punti Chiazzano 14 Giolli 11 Allora L'analisi Pontremolese Lampo Entrambe vincenti Vedi eccellenza Le prime due Mi sembrano nettamente La Sestese Sta tenendo Ma è dura Qui c'è la forbice Che potrebbe Veramente Sicuramente Si fa solo Una partita Di playoff Mi sembra molto Difficile Che si possono arrivare Quindi ci dispiace Per il Maliseti Per il Viaccia E anche per il Montespertoli Hanno fatto Le campionate Di altissimo livello Tutto può ancora succedere Però la vedo dura Che possono centrare I playoff Pensa per il Maliseti Sarebbe il terzo anno Che entra in grindia Ma non fa i playoff Per la forbice Quindi insomma Cato più liberale Molto bene La matricola Viaccia Pontremolese Lampo Lampo Pontremolese A questo punto Sempre più Pontremolese Vitale Secondo me sì Secondo D'Ambrosio Invece Penso anch'io Per la Lampo Fai il tifo Il nostro amico Pacitos No 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 Anch'io Pontremolese Anch'io La vedo Favorita Morello Lo tengo fuori Non credo Segui la Pontremolese La Lampo Sai dove è La squadra La Lampo Guardami Guardami Non è la zip Si tira su È Lamporecchio Famosa Cittadina Pistudese Dove fanno I brigidini Avete sentito I brigidini Allora sentili Perché velli Sono buoni Allora andiamo avanti Con Quindi facciamo conoscere anche a Moreo Tutto il calcio dilettante Questo è calcio vero insomma Tra l'altro Jolly Montemurlo Lo sai che ultimo momento di Sive Ha giocato a Montemurlo Pacito Un Jolly Adesso lo vediamo Che perde contro La Lampo Però gioca una gara Gagliarda Sinceramente Per 60 minuti Che una era seconda E l'altra la ultima Anche quella da Pontremolese Mi sembra che hanno perso 2 a 1 Quindi se la giocano fino alla fine Allora vediamo le immagini Che arrivano Dallo stadio Adonelli Di Montemurlo Di questa gara Con il Jolly Che ha cominciato bene Ha giocato una gara Gagliarda Molto impegno Molta dedizione Contro una Lampo Che poi nella ripresa è venuta fuori Questa è la prima confusione Da parte appunto Di Lunardi E la sfera che è stata trovata avversa Punizione di Segoni La tratta del portiere Pannocchia Che devia in angolo Tra l'altra parte La giocata Della formazione da Lampo Con Rodazio Che impegna Il portiere del Jolly Montemurlo Poi il vantaggio Del Jolly Con Moriso Iaon Che sarà uno dei migliori In campo Colpo di testa Difesa da Lampo Che fa le belle statuine E Moriso Iaon Eccolo qua Che realizza Il gol del vantaggio Dall'altra parte Ancora Cerri Ci prova la palla Che esce a lato Ancora la formazione Della Lampo Con Rodazio E c'è la parata Del portiere del Jolly Montemurlo Ancora la formazione Della Lampo Che si rende protagonista E qua c'è l'opportunità Per Gelli Che mette alto Ancora una partita Che vede la Lampo Alla ricerca del pareggio Si difende comunque Con ordine La formazione del Jolly Che poi ci prova anche Direttamente su calcio Appunto D'angolo Il portiere Pannocchi Attento Ripresa Jolly avanti Jolly avanti Poi in avvio Di ripresa Ovviamente La maggior Forza Della Lampo Porta al pareggio Con questo tiro Da parte di Di Corriazio Che appunto Mette la polla In fondo al sacco E c'è il gol Dell'1-1 Poi c'è un gol Annullato per fuorigioco Ancora a Cerri Fuorigioco abbastanza netto Quindi non vi faccio neanche Rivedere le immagini E poi Dall'altra parte Un'opportunità Ancora per Lunardi Che spara alto E poteva riaprire il match Poi nel finale Tanti errori Da parte Della Lampo Qua c'è una bella Chiutura di Segoni Qua c'è una clamorosa Traversa colpita Da Bonfiglio E quindi Insomma Lampo che certifica La ricerca del vantaggio Che arriva Eccola qua Eccolo qua Il gol di Corriazio Che di fatto Porta avanti La Lampo E ci sarà il risultato Di 2 a 1 Insomma Una Jolly Che ha resistito Per quanto ha potuto Poi ovviamente La Lampo ha fatto Crescere La maggior Dinamicità Ma anche La maggior voglia Di fare risultato positivo A questo punto È dura Pacito Per i Jolly Sì Non è facile Ora Però vi sono fatto Un ottimo primo tempo Perché poi comunque C'hanno una squadra Lamporecchio Comunque Che è un Lampo Che è forte Secondo in classifica Quindi Mi dispiace Perché magari Meritavano Anche il pareggio Eh sì È una situazione Classifica Che comunque Lascia spazio Forbici permettendo Di evitare l'ultimo posto Perché comunque c'è Ora domenica Mi sembra giocano All'Ambra All'Ambra Tutto può ancora succedere La squadra non c'è Però deve chiudere una partita Perché fa vedere buone cose Ma non riesce ad uscire Con un risultato così Dove adesso servono punti Insomma Di pacchi sulle spalle Di complimenti Non servono più a niente Diretta La Lampo gioca male Ma vince È un buon segno Eh vabbè Questo indubbiamente Ormai sono lì Vero perché Ha giocato meglio il jolly Come sviluppo della manogra Sì Però maggiormente Insomma I giocatori maggior peso È chiaro C'hanno più qualità Dall'altra parte Però il jolly Dei giovani Comunque Ha fatto bene Per una buona retta Un buon jolly Peccato però Per il risultato Bene Andiamo a segnalare poi Per quanto riguarda Le pratesi Il Malisetti Che vince sul campo Del luco Una vittoria importante Grazie a rose Picchianti per il luco Segna Turchi E la formazione Del viaccia Che invece Pareggia con la rialcia Ritese per 1-1 Bianchi e Cacciapuoti I due marcatori Mentre la Sestese Come diceva Il nostro amico Vitale Batte il Lammari Per 3-1 Doppietta di Dico E gol di Ridolfi Quindi una squadra Ye ye Che vince E continua a sperare Nei playoff Che sono veramente Però appesi Ad un filo Con quelle due Che tradotteranno Qui nel fondo Di letto Questo Malisetti Fa sul serio E come Questo Malisetti Fa sul serio Però purtroppo La forbice Mi sembra Troppo attardato Rispetto ai secondi E la classe Della Lampo Il viaccia Con il rialcia Ritese Non riesce a vincere Sì è vero Anche all'andata È stata una partita Sfortunata E quindi Insomma La situazione È abbastanza Delineata Questo rialcia Ritese È un osso duro Invece Per la formazione Del viaccia Mentre rivediamo Le ultime azioni Di questa gara Lorenzo Vitale Se dovesse Essereci Playoff La sestese Potrebbe essere Un brutto rientro Potrebbe essere Sì La scheggia Impazzita Una squadra Nata Per vincere Dai si può dire Una società Abituata Ad altri Parcourscenici Quindi se vanno A fare i playoff Solamente farà Pesare La propria storia E quindi potrà Dare a noi A tutti Vedremo gli sviluppi Di questo campionato Dobbiamo segnalare Anche la vittoria De Petra Santa Che batte Il Calenzano E quindi Insomma Si riapre Una situazione Molto delicata Nella zona bassa Della classifica Prima categoria Diretta Vai Girone B Amici miei Che batte il Candeglia Per 3 a 0 Casal Guidi Batte il Malmantile 2 a 0 Galcianese Vaianese 2 a 0 Monzulmano Che batte il Tavola 1 a 0 Violo CF 0 a 1 Mezzana San Nicolò 2 a 0 Piaggia Lanciotto 0 a 1 E 1 a 1 Tra Doccia E Prato 2000 In testa La classifica Al Prato 2000 Appunto A 44 punti Amici miei 39 E a 38 punti Galcianese Mezzana E CF Chiude la classifica Il San Nicolò 23 Malmantile 22 Lanciotto 21 Frazione davvero Delicatissima Con il Prato 2000 Che impatta Per 1 a 1 Sul campo Di Nascita Doccia Con appunto I gol di Simone Di Rinfroschi Per questa gara Gli amici miei Accorciano Perché gli amici miei Battono per 3 a 0 Il Candeglia Grazie ad Allegri Stornani Quindi sono degli innocenti Per questa vittoria Che porta a 5 punti Il vantaggio Del Prato 2000 Sugli amici miei Poi ci sono 3 Pratesi La Galcianese La Galcianese Che ha battuto Per 2 a 0 La Vaianese Con Rinaldini E Di Noto Quindi sicuramente Sta facendo bene Il Mezzana Alta formazione Pratese Che praticamente Batte il San Nicolò Per 2 a 0 Grazie alla doppietta Di Giovanchelli E poi il CF 2001 Casale Fattoria Che appunto Continua a fare particolarmente bene Va a vincere sul campo Ello Grazie al gol Di Lorenzi Per 2 a 0 Che comunque Ha un buon vantaggio Ora so Già che Moreo Mi vuole chiedere Gli amici miei Che squadra è Vero? Lo vedevo Dopo Lampo E Brigidini Lui mi vuole chiedere Gli amici miei Che squadra è Che idea ti sei fatto Moreo Una squadra che si chiama Amici miei Non lo sai No Non ne ho idea Ti sono un gruppo di amici Che hanno fatto una squadra Su quello lì Vabbè Tanto la palistiana Allora anche per gli amici a casa Perché spesso Ci sono anche queste domande Lampo Tu lo sai Chi sono gli amici miei? No Vedi vedi Ma qua mi trovo tutto in castagna L'amici miei Era una squadra di Aliana Che ha fatto per tanti anni La terza categoria La seconda E che tra l'altro Annoverava Talle proprie fila Anche Corrado Colombo Ex professionista Che ha giocato la pizzo Non mi dire Pacito Non sapevi neanche tu Che erano gli amici miei No no Non lo sapevo Vedi Vedi Moreo ha scoperto i Brigidini Succede anche questo Vince il Prato 2000 Secondo te Anche qui fanno Quelle davanti Non tirano il freno E da un po' Non vincano Con continuità Nonostante questo I sette sono diventati cinque Ma nelle ultime cinque partite Il Prato 2000 Rallenta E rallenta E rallenta Ma rimane sempre in testa E quindi insomma Ha buone chance Gli amici miei 39 punti Ma anche loro venivano La striscia non positiva Ma quello che invece Dal sottolineare Dei tre pratesi Galcianese Mezzane Castalefattoria Che insomma hanno buone chance Di poter comunque Continuare a rimanere In zona più Diretta se non c'è altro Da quando è venuto In trasmissione Dio Dato Il Prato 2000 Non ha più vinto Eh vabbè Siamo un contotendenza Ai 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 Allora Questo dobbiamo segnalarlo E Vabbè Lanciamo l'impulso positivo Per Dio Dato Questo Indubbiamente Di solito Di solito Chi viene a giocare E' fatto Porta bene Abbiamo portato Non troppo bene Neanche a Mazzanti Questa settimana Insomma Neanche a Staccenti Sì ci siamo Forse allargati Però l'Aglianese ha vinto Ci siamo allargati un po' troppo Forse con queste nostre superstizioni Vabbè Venerdì ritorno All'appuntamento Con che cosa Diletta? Con Prato Sport Alle 21.20 Su TV Prato Un altro appuntamento Da non perdere Io questa settimana Sono curioso Perché il nostro Anderla Abate Ci racconterà Addirittura La scherma antica In armatura Quindi insomma Ci sarà veramente Da seguire Con attenzione Questo interessante Servizio Con grande interesse Poi parleremo Di basket La nostra diletta Che andrà Alla scoperta Basket femminile Basket femminile Era tutto da seguire Sicuramente Avremo le bocce Che il nostro Niccolò Ollandi Ci racconterà Il mondo delle bocce Dove giocano Tantissimi Tantissimi appassionati Delle bocce Noi avremo Spazio anche A questo tipo Di sport Poi il punto Sulla Sib Insomma L'appuntamento Con Prato Sport Ormai è diventato Assolutamente Da non perdere 21 e 20 Rigorosamente Su TV Prato Allora A questo punto Io direi Di chiudere Prima di chiudere Voglio abbracciare Rolando Becheroni Che appunto Nello scorso weekend Ha avuto un lutto familiare Quindi Veramente lo abbracciamo Gli facciamo Le più sentite Condoglianze Uno dei grandi cameraman Della nostra squadra Di TV Prato E visto che ci siamo Ringraziamo Tutta la squadra Dei cameraman Di TV Prato Con appunto Emanuele Meoni Con Francesco Ruggeri Con Bob Roberto Finelli Con Martina Raffanelli Insomma Una grande squadra Capeggiata Ovviamente dal nostro Paolo Innocenti Regia Ringrazio il nostro Lorenzo Vitale Per l'intervento Grazie a voi Grazie Ti sento più nessuno Ti vorrei vedere Ancora in bianca-azzurro Me lo prometti? Certo Eh? Va bene Stai cruciando le vite La fa che parte Vabbè Vediamo Vediamo Perché c'ha il 108 Non ho scoperto C'è il 108 stasera Facciamo anche di battica Non solo Caccia Non ho scoperto Ancora il 108 Ha scoperto Gli amici miei Giamporecchio E il 108 Meglio dire così Non si poteva andare Grazie alla nostra Diletta di Tosso Grazie a voi Per tutti i messaggi Sono stati veramente tanti Grazie di cuore L'appuntamento È rimandato Quindi a noi Di prossimo Perché il grande Caccio Dilettanti È solo qui da noi Alla prossima Ciao Grazie a tutti